Grazie mille, con l'atleta della messa, come vale, prima di mananza, loro l'imposizione più in meglia, sono le posizioni delle tre prime, la messa in finale, la messa, la gestione l'altro, come vale, come la feberi, ai meno 4, feberi, raganti, babarani. Siamo al passaggio del direttore, la feberi, adesso è una buona, la catupi, un ministra in prima, la posizione, la barani, buco di linea, terza, la posizione, il passaggio, siamo e due ragazzi, sono le gambella, buco di linea, buco di linea, buco di linea, buco di linea, la barani, buco di linea, 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 buco di Tutto per regolare la protezione per questa seconda sempliciale della Paganelli in prima posizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.